presento un mio brano le vie è una posta nuova all'italiana che ho composto nel testo e nella musica consiglia stardini che con me nel trio insieme a elisa ragno negli assoli del tuo attraverso dal mio ultimo album la Vinduez che si trova ovunque e nel senso online potete cercarlo e quindi buon ascolto e adoro la busta nuova guarda rispondi una porta aperta a 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 che canto non sia solamente un rimpianto grazie 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 모 con la grazie grazie grazie